What's up a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo video. Ebbene, probabilmente magari la mia faccia un pochettino sfatta è testimone del fatto che ho seguito tutta la notte degli Oscar. Per la prima volta in vita mia, ragazzi, sono riuscita a seguirla tutta. Penso che il mio desiderio di veder triunfare Joker come film abbia avuto la meglio sulla sonnolenza. Infatti sono riuscita a seguirla senza alcun problema, insomma, di sonno. Dall'inizio alla fine, certo, è stata lunga, ragazzi, è lunga, ovviamente, è incominciata verso le due di notte, è finita verso le cinque e mezza, credo, se non erro. Perché ovviamente, ragazzi, fra le varie premiazioni comunque ci sono vari intermezzi e comunque per intrattenere, eccetera, eccetera. Quindi, vabbè, sulla sua durata comunque non avevamo alcun dubbio. E volevo parlare, appunto, diciamo, abbastanza rapidamente con voi, ragazzi, di alcuni aspetti di questa notte degli Oscar 2020. Parlando, insomma, un pochettino di quello che è stato, di quelli che sono stati i premi. Anche se, purtroppo, effettivamente non posso esprimermi poi così tanto, ragazzi, perché fondamentalmente dei film, dei vari film che comunque erano candidati, ne ho guardati veramente pochissimi, se non forse soltanto un paio, se non erro. E adesso ne parleremo, anzi, forse due o tre, ma adesso ne parleremo, ragazzi. Allora, parlando proprio rapidamente dei vari film, direi comunque le categorie più importanti sono miglior film, migliore regia, migliore attore protagonista, migliore attrice protagonista. Per il resto, vabbè, sono comunque anche, ragazzi, i premi sono tutti fondamentalmente importanti. Anche perché, tra l'altro, il film Joker, ragazzi, è stato candidato alla bellezza di undici di questi premi. Però, purtroppo, ragazzi, il film ne ha vinti soltanto due, sicuramente molti meno di quelli che io speravo che vincesse. Però, consideriamo che forse io sono un pochettino di parte, perché sapete benissimo quanto mi piaccia il personaggio del Joker, quanto io abbia adorato questo film e quindi, ovviamente, essendo di parte, ragazzi, speravo vincesse più premi. Per quanto, appunto, io non abbia avuto, però, la possibilità di guardare gli altri film, ragazzi, c'è da dire che, appunto, tutti, fondamentalmente tutti i candidati agli Oscar erano film veramente molto validi. Quindi, secondo me, Joker ha avuto vita difficile in questa premiazione, ragazzi. Parlando, allora, di miglior film, ovviamente Joker era fra i candidati, però, fra gli altri candidati c'erano Parasite, 1917, sto guardando la lista, ragazzi, perché, ovviamente, non me li posso ricordare tutti. C'era una volta a Hollywood, The Irishman, Jojo Rabbit, Le Man 66, Piccole donne, storia di un matrimonio. Questi ultimi tre film, io non so se, effettivamente, siano così belli, come dicono, perché su questi tre film non ho letto alcun tipo di parere. Sugli altri, invece, sì, ragazzi, appunto. Tra l'altro, io c'era una volta a Hollywood, ragazzi, l'ho iniziato a vedere. Ho visto soltanto Metalfilm, purtroppo mea culpa, ma vi dirò la sincera verità, ragazzi, che la prima Metalfilm mi ha annoiata terribilmente. Quindi, non mi è venuta poi più voglia di continuarla a vedere. Quindi, fondamentalmente, erano tutti film molto validi. Joker, ripeto, non ha avuto vita facile. Miglior film, ragazzi, è miglior film internazionale. Premi vinti da Parasite. Questo film straniero, perché è coreano, ragazzi, di Bong Joon-ho, che a quanto pare ha meritato, sembrerebbe, appieno i premi che ha vinto. Infatti, ragazzi, lo stesso Bong Joon-ho ha vinto il premio a migliore regia. E ricordiamoci che fra i candidati, ragazzi, c'erano Sam Mendes per 1917, Todd Phillips per Joker, Martin Scorsese per The Irishman e Quentin Tarantino, ragazzi. E la battaglia, secondo me, era veramente molto dura, per cui si hanno deciso di premiare questo regista coreano. Tanto di cappello vuol dire che, fondamentalmente, probabilmente, se l'è meritato alla grande. Perché stiamo parlando, comunque, ragazzi, di grandi nomi e, perlomeno, comunque, di grandi lavori. Perché, ragazzi, Todd Phillips, io adesso non so quali altri film abbia diretto. Se non sbaglio, è il regista di... cioè, ragazzi, è il regista di Una Notte da Leoni. Comunque, cioè, stiamo parlando, per carità, probabilmente, di una saga che è piaciuta tantissimo. Però, cioè, capite, magari non sono film che possono stupire, poi, così tanto, capite, per la regia. Forse, sì, io li ho visti una volta nella mia vita, non mi sono rimasti particolarmente impressi. Quindi, per dire che, comunque, Todd Phillips, magari, che fino ad ora, forse, non si era spinto a fare un film tipo Joker. Joker, quindi, meritava, probabilmente, sicuramente, di essere fra questi grandi nomi. Quindi, era veramente dura, secondo me, è stata veramente dura, ragazzi, scegliere. Dopodiché, ragazzi, parliamo, insomma, vabbè, migliore attrice protagonista, Renée Zellweger, per Judy, che, ovviamente, io non ho visto, non ho visto neanche gli altri film, le altre attrici, che sono state, appunto, nominate per quei film. I film non li ho visti, quindi non posso esprimere assolutamente alcun parere. A quanto pare, appunto, Renée Zellweger ha meritato, così, totalmente questa statuetta, perché, da quello che ho sentito dire, si è superata, insomma, nella sua interpretazione. E parliamo, appunto, ragazzi, di quello che a me interessava particolarmente, cioè il premio al miglior attore protagonista. Erano nominati, ragazzi, Joaquin Phoenix, Antonio Banderas, che è rispuntato così, come un fungo, per il film Dolori Gloria di Almodovar, Leonardo DiCaprio, Adam Driver, che, a quanto pare, sta spiccando abbastanza, insomma, negli ultimi suoi ruoli. Jonathan Pryce, per i due papi, che, veramente, ragazzi, non so, ma ha sorpreso un pochettino, perché, magari, è un film che potrebbe non attirare così tanto, però, evidentemente, la sua interpretazione è stata tale, appunto, da meritarsi la candidatura. Ovviamente, ragazzi, come era già previsto da secoli, Phoenix ha vinto l'Oscar per miglior attore protagonista. Ovviamente, è stata una gioia immensa per me, ragazzi, perché, io ripeto, adesso non ho visto gli altri, ho visto soltanto metà dell'interpretazione di DiCaprio, in c'era una volta Hollywood, ma, secondo me, lo meritava, lo meritava a prescindere, perché, veramente, ragazzi, nel ruolo di Arthur Frank si è decisamente superato. Però, ho da ridire un attimino, ragazzi, volevo condividere con voi questo mio disappunto riguardo il suo discorso. Il suo discorso che ho trovato veramente strano. in alcuni momenti, ragazzi, direi fuori luogo, secondo me avrebbe potuto dire molto altro, avrebbe potuto dire molto altro perché, ragazzi, perché, tra l'altro, allora, Phoenix, nel suo discorso, allora, lui è un attivista, un attivista riguardo l'ambiente, riguardo gli animali, tra l'altro è vegano, quindi, diciamo che è fermamente convinto di questa questione, ragazzi, degli allevamenti intensivi, insomma, tutta la questione del veganesimo, tutta la questione, insomma, dell'ambiente che sta andando a quel paese per colpa dell'essere umano, quindi lui ha queste convinzioni ferme nella sua testa, liberissimo, meno male che magari c'è sta gente come lui. Il problema, ragazzi, è che ha portato questi argomenti nel suo discorso e secondo me c'entrava assolutamente un cazzo, nel senso che, ovviamente, magari uno potrebbe dire ha approfittato di un'occasione del genere, insomma, per, ovviamente, provare a sensibilizzare la gente su questi argomenti, ma, secondo me, poteva risparmiarsi, ragazzi, magari poteva fare un accenno alla questione degli ambienti e degli animali, ma si è concentrato solo ed unicamente su quello e non ha detto assolutamente niente, ragazzi, del film, non ha detto assolutamente niente della gente con cui ha lavorato, non ha detto assolutamente niente, non so, non ricordo il suo amico Heath Ledger, che comunque aveva vinto postumi, purtroppo, l'Oscar per lo stesso ruolo e secondo me ha cagato totalmente fuori dalla tazza, ragazzi, nel senso che avrebbe potuto dire cose più inerenti alla situazione, cose più inerenti al premio che aveva appena vinto, secondo me è stato molto più bello il discorso che aveva fatto il Golden Globe e non so che cavolo gli si è preso ieri sera, anche perché era scorbutico, cioè è arrivato sul palco, ragazzi, con la faccia arrabbiata, non so, mi è sembrato molto strano, a fine discorso si è addirittura commosso nominando suo fratello River Phoenix, che purtroppo ci ha lasciati, sinceramente non so, non so che diavolo gli si è preso e ripeto, secondo me il suo discorso è stato totalmente sbagliato, totalmente fuori luogo, ecco, perché poteva fare accenni, ragazzi, accenni all'attivismo, a quello che gli pareva, però, non ha nominato nessuno e niente, riguardo il film, riguardo la gente con cui ha lavorato, ripeto, a fine, ragazzi, a fine discorso, non ha manco, non si è manco fermata a ringraziare, grazie, cioè ha preso, se n'è andato, commosso, con le lacrime agli occhi, non so, il suo discorso vi dirò, ragazzi, sinceramente che mi ha decisamente deluso, perché mi aspettavo qualcosa di più inerente al film e comunque al contesto cinematografico in generale, dopodiché miglior attore non protagonista, ragazzi, Brad Pitt, che sinceramente non so se effettivamente meritava questo premio, c'erano candidati anche al Pacino e Gio Pesci, ragazzi, per The Irishman, non ho visto il film, però Brad Pitt, in c'era una volta Hollywood, per quel poco che ho visto, ragazzi, a me sinceramente non ha detto niente di diverso da quello che mi dice Pitt in un film, che è sempre lui la sua solita faccia, insomma, la sua solita interpretazione, magari nella seconda parte del film ne vale di più la pena, non lo so, secondo me non lo meritava al 100%, però dovrei dirlo guardando le altre interpretazioni, dopodiché miglior attrice non protagonista, vabbè, per storia di un matrimonio, miglior sceneggiatura originale, ragazzi, vinta da Parasite, anche in questo caso, miglior sceneggiatura non originale per Taika Waititi, per Jojo Rabbit, che a quanto pare, ragazzi, lo meritava, era candidato anche Joker in questo caso, e vabbè, ce ne faremo una ragione, miglior film internazionale, come vi dicevo, Parasite, migliore fotografia, ragazzi, era candidato anche Joker, e io vi dirò la verità, magari il 1917, per l'amore di Dio, l'avrà meritato, ma secondo me Joker, ragazzi, se lo meritava tutta la vita, perché la fotografia di quel film, è assolutamente la vita, parere personale, miglior scenografia, per c'era una volta a Hollywood, l'unico, mi sembra, premio, ragazzi, che si è portato questo film, oltre al migliore attore non protagonista, miglior montaggio, ragazzi, c'era anche Joker, ha vinto, insomma, il Man 66, e migliore colonna sonora, ragazzi, ha vinto, appunto, Joker, e sono stata felicissima, di questo premio, perché secondo me, il film, ragazzi, la colonna sonora di quel film, se la meritava assolutamente, tutta, veramente, tutta, ragazzi, come miglior canzone, ha vinto la canzone di Elton John, poi, migliori effetti speciali, 1917, addirittura, ragazzi, ha battuto, Star Wars, ha battuto, Avengers Endgame, e The Irishman, film nel quale, ragazzi, gli effetti speciali, sono stati utilizzati, per ringiovanire gli attori, quindi, gli effetti speciali, assolutamente pazzeschi, avevano detto che si meritava l'Oscar, però, a quanto pare, 1917, ragazzi, si è portato anche questo, si è portato anche Miglior Sonoro, e, eh, Miglior Montaggio Sonoro, invece, per la Man 66, che comunque, ragazzi, è stato un film che riguarda, comunque, le gare automobilistiche, se non sbaglio, probabilmente, se non meritava, perché, insomma, non è facile, per migliori costumi, ovviamente, ragazzi, se lo porta piccole donne, eh, perché fondamentalmente, ragazzi, quando ci sono questi film, in cui ci sono quegli abiti, di una volta, fondamentalmente, questi premi, se li portano quei film là, c'era anche Joker, di nuovo di Irishman, insomma, pure ragazzi di Irishman, c'era una volta Hollywood, in questo caso, sono stati candidati, veramente, a moltissimi premi, però, non si sono portati via quasi niente, eh, Miglior Trucco e Acconciatura, ragazzi, anche in questo caso, era candidato Joker, però se l'è portato via Bombshell, la voce dello scandalo, che io ho visto, ragazzi, qualche immagine del film, Miglior Trucco, Miglior Acconciatura, probabilmente, magari, se lo poteva meritare, forse, un po' di più piccole donne, ma che non è stato manco candidato a questo premio, che per Miglior Trucco e Acconciatura è il suo trucco, ma non so, non so se questo film, sinceramente, se lo sia meritato, perché da quelle poche immagini che ho visto, c'è, sto premio, boh, non lo so, e poi ragazzi, parliamo un attimino di Miglior Film d'Animazione, vado di fretta, perché purtroppo mi si sta scaricando la macchinetta, Miglior Film d'Animazione, ragazzi, Toy Story 4, cioè voi non avete idea di quanto io ci sia rimasta di merda, perché erano candidati anche, Dov'è il mio corpo, che io ho visto, ragazzi, ed è validissimo, e Klaus, ragazzi, film di Netflix, che meritava assolutamente quest'Oscar, io penso che siamo rimasti tutti quanti veramente, estremamente delusi da questa vittoria, perché ragazzi, personalmente parlando, io ve lo dico con tutta la sincerità del mondo, a me Toy Story 4 mi ha fatto assolutamente cagare, un film che, personalmente parlando, credo, non merita manco di esistere, nel senso che non ha senso di esistere, ecco, a mio avviso, ragazzi, non avevano senso di farlo, lo hanno fatto, probabilmente sì, sarà pure fatto bene, tutto il cavolo che ve pare, ragazzi, però, cioè, farli vincere addirittura il miglior film di fronte, a un Klaus, ragazzi, che se non l'avete visto, guardatevelo, io l'ho guardato già due o tre volte, perché l'ho assolutamente adorato, ragazzi, non c'era paragone, non c'è assoluto paragone, perché Klaus se lo meritava per tutto, ragazzi, togliendo magari gli effetti speciali, quello che cavolo ve pare, però, ragazzi, Klaus sta cento anni avanti, per quanto riguarda la storia, il messaggio, il significato che c'è dietro, Toy Story 4, ragazzi, a me mi ha fatto veramente schifo, ve lo ripeto, e, sono estremamente delusa, da questa premiazione, perché, cioè, secondo me, ragazzi, la Disney, insomma, la Pixar, in qualche modo, o se comprate il premio, perché sto film non meritava, assolutamente di, secondo me, manco di essere candidato, perché, non vedo per quali motivi, avrebbe dovuto essere anche solo candidato, non lo so, non lo so, perché a me, ragazzi, ripeto, mi ha fatto cagare a qualsiasi punto di vista, sarà bello dal punto di vista visivo, grazie a sta grandissima ceppa, però, per il resto, a me non mi ha detto assolutamente niente, anzi, ma ha snervato, dall'inizio alla fine, mi ha fatto venire il nervoso, veramente, una delusione immensa, questa premiazione, per quanto riguarda, ragazzi, il resto della cerimonia, non male, non male, insomma, la cerimonia non è stata manco così tanto pesante da seguire, come alcuni hanno detto, comunque, è passata abbastanza in fretta, ma, ragazzi, ovviamente, con quella fiera del political incorrect, perché, ovviamente, si sta sempre lì, a ribadire, a ricordare la questione, ovviamente, del razzismo, del sessismo, del femminismo, e delle donne di qua, e delle donne di là, e dei neri di qua, e dei neri di là, e solite storie, ragazzi, adesso, non è per fare polemica, però, siamo nel 2020, e il fatto che stiamo sempre lì, a ribadire, sto benedetto politically correct, ragazzi, a me, sinceramente, mi ha stracciato le palle, cioè, ve lo dico proprio così, apertamente, a cuore aperto, che non ce la faccio più, a sentire sempre, questi soliti argomenti, mi sono rotta le palle, per il resto, comunque, la cerimonia, ripeto, godibile, ovviamente, gli americani che fanno le loro incredibili battute, gli altri americani che si sganasciano, quando ascoltano quelle incredibili battute, però, è tipico degli americani, va benissimo così, niente, penso che non farò mai più questa cosa in vita mia, a meno che, appunto, ci sia un film che lo merita, assolutamente, non guarderò mai più, ragazzi, sia una notte degli Oscar, perché, vi giuro, ho dormito soltanto tre ore, e non è stato facile, non è stato facile, però, secondo me, ragazzi, Joker comunque un pochettino è stato boicottato, vi ripeto, questo lo dico probabilmente perché, io sono di parte, sono di parte, e probabilmente gli altri film, comunque, meritano sul serio, i premi che hanno vinto, non lo metto in dubbio, però speravo si portasse a casa qualche premio in più, magari, non so, il fatto che potrebbe essere considerato un cinecomic, ragazzi, l'ha un pochettino penalizzato, ricordiamoci che c'erano alcuni membri dell'Academy che non volevano manco guardare il film, non mi ricordo il motivo preciso, però forse proprio per questo motivo qua, del fatto che potrebbe essere considerato un cinecomic, quindi probabilmente non era manco degno, insomma, di stare in mezzo a questi altri film, meno male che almeno comunque l'hanno candidato, ragazzi, è stato comunque riconosciuto il merito, in parte, a questo film, speravo, vi ripeto, vincesse, si portasse a casa un pochettino più di statuette, ragazzi, vi saluto in fretta e furia, perché si sta per spendere la macchinetta, fatemi ovviamente sapere, ragazzi, qua sotto, qua sotto in commento voi, che cosa avete pensato di queste varie premiazioni, questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, e vi lascio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!